Nuovo appuntamento con tra le righe consigli di lettura. Anche questa settimana siamo nella libreria Voce di Padre Pio a San Giovanni Lotondo, a pochi metri dal santuario dei frati Cappuccini. E anche questa settimana vogliamo consigliarvi qualche libro da leggere perché non da tenere sul comodino. Non potevamo non cominciare con un omaggio a un amico, a Padre Marciano Morra, che è venuto a mancare qualche settimana fa, che vogliamo ricordare non solo attraverso le tante catechesi, testimonianze, trasmissioni che ha curato per Padre Pio TV, ricorderemo sempre la sua immensa disponibilità nei nostri confronti. Oggi lo vogliamo ricordare attraverso i suoi scritti, i suoi libri. I tanti di voi che hanno seguito a colloquio con Padre Marciano Morra, soprattutto nella prima parte della programmazione tra il 2009, 2010, 2011, sanno, forse magari si ricorderanno, o forse non tutti, come Padre Marciano arrivasse nei nostri studi con uno dei suoi libri che puntualmente mi regalava a inizio stagione. Diceva studia, prendi spunto dai miei libri perché sono scritti bene. E beh, aveva veramente ragione. Edizioni Casa Sollievo della Sofferenza, edizioni Padre Pio da Pietrelcina, perché non possiamo non ricordare che Padre Marciano Morra è stato segretario generale dei gruppi di preghiera per tanti e tanti anni. Davvero infaticabile operaio nella vigna del Signore. Voglio ricordarlo oggi con questo libro intitolato Umanità e spiritualità in Padre Pio e recità delle virtù, un cammino sofferto e gioioso. Vi voglio leggere quello che ha scritto Padre Marciano a proposito di questo libro nell'introduzione. Questa meravigliosa avventura spirituale viene illustrata nel nuovo testo che sto per consegnarti. Lui si rivolgeva direttamente al lettore. Già che, partendo dalla vita e dagli scritti di Padre Pio, sono presentate le virtù teologali, cardinali e quelle tipiche della vita religiosa. I consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Circa la virtù dell'umiltà ho creduto opportuno premetterla alle ben note virtù cardinali perché è alla base di tutto il cammino di perfezione. Solo se si parte da una profonda umiltà si può possedere la fede, impegnarsi nella carità, abbracciare i voti della vita religiosa e vivere autenticamente tutte le altre virtù. Il Signore ci esorta ad essere perfetti come perfetto Dio Padre che è nei cieli. E l'Apostolo Paolo ci stimola ad avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geroso la sua uguaglianza con Dio. E poi prosegue Padre Marciano. Nel riportare l'esperienza vissuta da Padre Pio, con particolare riferimento all'esercizio delle virtù, non ho cercato di sfumare i difetti che in passato facevano gli agiografi, ma ho voluto presentare l'uomo nella sua realtà, sottoposto a limiti e tentazioni, ma anche decisamente impegnato nel superamento delle proprie debolezze e nella conquista della santità. E in questo sforzo per il conseguimento delle virtù che risaltano maggiormente l'opera amorosa di Dio e la statura spirituale del Santo, che, dobbiamo rimarcarlo, è un uomo vero e non un superuomo. E poi conclude con questa frase che voglio condividere con voi. «Sono sicuro che non te la prenderai a male se scriverò un altro libro, anzi, sarà un modo piacevole per stare un altro poco insieme e nello stesso tempo parlare, riflettere, parlare con Padre Pio». Firmato Padre Marciano Morra. Ti vogliamo ricordare così oggi, in questa puntata di Tra le Righe, consigli di lettura. E vogliamo consigliare questo libro ai nostri telespettatori. «Umanità e spiritualità in Padre Pio». Padre Marciano Morra, questo libro fa parte di una collana che ne raccoglie altri cinque, compreso questo, se non ricordo male. Quindi, Padre Marciano, mi perdonerai se non ricordo bene quali e quanti libri compongono questa collana, ma nelle prossime settimane li presenteremo uno alla volta. Questo, appunto, è uno dei tanti libri scritti da Padre Marciano che vi consigliamo. Patrizia Bertoncello è insegnante di scuola specializzata nell'insegnamento a minori con disabilità sia fisiche che psicofisiche e sensoriali. E ha scritto questo libro, edito da Città Nuova, intitolato «Bambini nei guai, storie e percorsi tra i disagi dell'infanzia». Mi ha colpito quello che ha scritto la maestra Bertoncello nell'introduzione. Infatti, scrive che innanzitutto ama definirsi maestra di periferia e la mia esperienza professionale si è giocata tutta in classi della scuola primaria. E poi, specifica anche perché ha scelto di raccontare, in questo libro, di raccogliere non storie positive, ma storie difficili e estreme. Infatti, pagina dopo pagina, in questo libro si narrano storie di bambini che, nell'età della spensieratezza, hanno conosciuto la malattia, la disabilità, l'emarginazione, l'esclusione, il dolore, la solitudine e l'abbandono. Storie invisibili, di conseguenza bambini invisibili. Quindi, riporta anche alcuni dati sugli ultimi rapporti dell'UNICEF sulla condizione dell'infanzia che sottolineano come l'esperienza infantile nel mondo sia sempre più caratterizzata dalla vita in contesti urbani. Nel volume, scrive la maestra Patrizia Bertoncello, si affrontano solo alcune delle numerevoli situazioni di difficoltà dei bambini. E alla domanda perché raccontare proprio queste e non altre storie. Chi ha scritto l'ha fatto col desiderio di aprire uno spazio di dialogo sul mondo attuale dell'infanzia in Italia, in alcune sue particolari problematiche, con la convinzione che esso andrà ulteriormente esplorato e arricchito da nuovi contributi. Queste storie, però, e qui appunto arriva il bello, contengono germi di speranza. Sono stati in vario modo luoghi di incontro in cui sono stati iniettati gli antidoti del bene. Quel bene che non fa rumore, ma che può operare e trasformazioni esistenziali. Dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori, recita Via del Campo, una nota canzone di De Andrè. Siamo andati, scrive la Bertoncello, in cerca di questi fiori per coglierne la delicata presenza dentro le intricate esistenze delle nostre città. E allora, storia dopo storia, racconto dopo racconto, ci porta davvero alla scoperta di un mondo invisibile, di storie invisibili, con bambini invisibili, come dice la stessa maestra di periferia, Patrizia Bertoncello. Però comunque ci sono delle storie che hanno davvero il germe, quasi tutti il germe della speranza. Bambini nei guai, storie percorsi tra i disagi dell'infanzia, edizione Città Nuovo, firmato da Patrizia Bertoncello. Chi non rischia, non cammina. Parola di Monsignor Leonardo D'Ascenso, vescovo di Barletta, Trani e Biceglie, vocazione e direzione spirituale e discernimento, edito dalla San Paolo. Però questo titolo, Monsignor D'Ascenso, l'ha preso in prestito dalle parole di Papa Francesco, perché in uno scambio amichevole, come un po' il suo solito, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, Papa Francesco, con un gruppo di giovani. Il pontefice ha risposto alla domanda di uno di loro sul coraggio e le paure nelle scelte della vita, invitandolo a saper rischiare, perché ha affermato Papa Francesco, chi non rischia, non cammina. Ecco da dove nasce il titolo di questo volume, indirizzato alle guide spirituali e ai formatori che accompagnano i giovani nella loro maturazione umana e cristiana. Sostenere i giovani nell'itinerario di crescita della fede è un ministero di aiuto che richiede un'indispensabile attenzione alla dinamica del discernimento vocazionale, tema che è stato trattato anche dalla Chiesa nel Sinodo sui Giovani. Aiutare e discernere la peculiare vocazione di ogni persona è il compito della guida spirituale, il motivo per cui un giovane chiede aiuto e non da ultimo lo scopo di questo contributo, del quale l'autore, Monsignor D'Ascenzo, offre una serie di riflessioni sul tema della vocazione, della scelta dello stato di vita, della direzione spirituale e del discernimento vocazionale. Bella anche questa immagine di un giovane con uno zeno sulle spalle che salta. Chi non rischia, non cammina. Parola di Papa Francesco, ma anche di Monsignor Leonardo D'Ascenzo. Edito dalla San Paolo, vocazione, direzione spirituale e discernimento. Ci piace concludere con una storia anche questa settimana targata a Bruno Ferrero, tratta dal libro della collana Piccole storie per l'anima e le dice edizioni L'iceberg e la duna. Il libro appunto dal quale ho tratto questa storia è firmato da Bruno Ferrero e si intitola 8 minuti, la storia che voglio leggervi. Racconta la leggenda che una donna povera con un bimbo sulle braccia, passando davanti ad una caverna, udì una voce misteriosa che da dentro le diceva «Entra per 8 minuti, prendi quanto desideri, ma non dimenticare la cosa più importante. Ricorda ancora, quando sarai uscita, la porta si chiuderà per sempre. Perciò approfitta della possibilità, ma non dimenticare la cosa più importante. La donna entrò nella caverna e vi trovò molte ricchezze. Affascinata dall'oro e dai gioielli, mise il bimbo per terra e cominciò a raccogliere ansiosamente quanto poteva nel suo grembiule. La voce misteriosa parlò di nuovo. «Hai solo 8 minuti. Passati gli 8 minuti, la donna, carica d'oro e pietre preziose, corse fuori dalla caverna e la porta si chiuse. Quando fu fuori, si ricordò che il bambino era rimasto dentro, ma la porta era ormai chiusa per sempre. La ricchezza dura poco e la disperazione per sempre. Lo stesso, scrive Bruno Ferrero, avviene spesso per noi. Abbiamo circa 80 anni di vita in questo mondo. È una voce sempre che ci avverte non dimenticarti la cosa più importante. E la cosa più importante sono i valori spirituali, la preghiera, la vigilanza, la famiglia, gli amici, la vita. Così sprechiamo il nostro tempo qua giù e lasciamo da parte l'essenziale, i tesori dell'anima. E quando la porta di questa vita si chiuderà, a niente serviranno i rimpianti. Viviamo in un mondo pieno di problemi, angustie, corruzione, vandalismo e ingiustizie, dove ogni giorno muoiono bambini innocenti, padri di famiglie e madri disperate. E questo proprio perché abbiamo dimenticato la cosa più importante. E noi non vogliamo dimenticarla. Questa e tante altre storie firmate da Bruno Ferrero sono raccolte in questo libro L'iceberg e la duna per la collana Piccole storie per l'anima, edizioni LDC. Con questa segnalazione vi ringrazio per essere stati con noi. Vi invito a rivedere questa puntata oppure le altre della serie sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.